un peggio eglepino tipico cibo islandese pesce siccato simili merluzzo che pensavamo fino a due secondi fa fosse un squalo carne di squalo meno male che non lo è ma sai puzza non so se voglio stracolata è buono fate pesce tipo una chips di pesce no in realtà non fa troppo più però è strano che mi sto mangiando una chips di pesce è uguale al merluzzo però è proprio l'idea che fai uno snack col merluzzo merluzzo e birretta peraltro non vi faccio vedere i gradi perché ridico guarda quale cattivo il bing bella cosa fare la cura a casa e poi ha solo 330 calorie 86 grammi di proteine una fracca e 70 grammi di prodotto una fracca